Amiche e amici salve a tutti e come sempre ben ritrovati. In questo nuovo video andiamo a strizzare l'occhio all'ultimo acquisto che ho effettuato su Amazon. Trattasi di questo utensile multifunzione della DeWalt. Come potete ben vedere già all'esterno della confezione, l'acquisto che ho fatto riguarda unicamente il corpo macchina dell'utensile, in quanto di questa serie già ho diversi utensili marcati DeWalt e con i quali ho la possibilità di scambiare sia le batterie che ovviamente il caricabatterie che ho sempre utilizzato. Questo tipo di acquisto del solo corpo macchina consente ovviamente a me, all'utente, a chi lo effettua, di risparmiare tanti soldini perché quando parliamo di macchine professionali o semiprofessionali di questa tipologia, quelle che sono le batterie rappresentano già una percentuale importante di quello che è il totale del prezzo che si va a pagare ogni volta e che rappresenta insomma circa un centinaio di euro. Quindi per quella che potrebbe essere una macchina completa che costerebbe attorno ai 250-300 euro, risparmiare puntualmente sugli acquisti successivi dei soli corpi macchina, già quelli che sono 100 euro, significa tantissimo. Che dire, io avevo una necessità impellente, dovevo portare a termine un lavoro e avevo necessità di tagliare alcuni componenti in un punto, in una situazione dove una piccola smerigliatrice angolare, non riusciva ad entrare e non aveva nemmeno la sensibilità, non mancava la possibilità di avere la sensibilità per effettuare il taglio. Sensibilità che con questa tipologia di macchina ho potuto avere, ho effettuato il lavoro perfettamente, una macchina veramente spettacolare e per la quale magari insomma a breve vi pubblicherò anche un po' di video dedicati con test e quant'altro. Il problema però è stato un altro. Sono riuscito a risparmiare per la tipologia di acquisto tramite il solo corpo macchina, ho voluto strafare e nella foga del momento per così dire sono caduto, sono incappato nell'acquisto di lame, di consumabili di infima qualità. Ora su Amazon vi dico subito che quando si parla di utensili multifunzione saltano fuori pagine e pagine di varie marche più o meno conosciute ma poco valide, tutte quante provenienti dal continente asiatico. Tra queste vi dico subito non intendo includere quelle che possono essere le produzioni cinesi di Bosch, Makita, Milwaukee eccetera ma mi riferisco a quelle marchette per così dire economiche. Evitatele come la peste. Io ho speso una ventina di euro per acquistare tre lame dentate fondamentalmente per il taglio di legno con chiodi, quindi la versione bimetal di queste lame con la parte tagliente dorata eccetera. Beh, semplicemente per andare a fare un lavoretto di niente, quella che era la dentatura delle prime due lame mi è volata in maniera oscena tanto che alla fine la terza lama non l'ho voluta nemmeno usare, ho effettuato il reso tramite Amazon e ho recuperato quello che era la spesa di un acquisto veramente deprecabile. In questo, chiaramente, trovandomi un utensile interessante, utilissimo nel momento in cui ce l'hai, sono andato alla ricerca di altri consumabili. non mi sono immediatamente voluto gettare sulla marca originale quindi DeWalt o su prime marche come Bosch, Milwaukee e compagnia bella, proprio perché quando si parla già solo di una lama di questo tipo insomma, andremo a spendere qualcosa come 12, 15, 20 e pass euro e chiaramente necessitando poi varie dimensioni, varie forme e misure per farti un assortimento, quelli che possono essere 80, 100 euro volano in un secondo, anzi in un click. Quindi la mia seconda scelta è ricaduta su quello che poteva essere un cofanetto volendo interessante, soprattutto per come si presentava, ma che poi anche in questo caso, e qui ce l'ho, si è rivelato un acquisto comunque inutile. Non l'ho usato, non ho nemmeno tentato di fare la prova per due motivi che adesso andiamo subito a vedere. In ogni caso, sull'utensile multifunzione vi dicevo farò altri video e ve lo farò scoprire per bene. Adesso mi voglio concentrare su quello che è questo cofanetto. Lo andiamo ad aprire, Work Pro è la marca, perlomeno così viene marcato al momento della pubblicazione dell'inserzione, poi magari lo troverete con la stessa configurazione anche sotto altri nomi. Arriva così con quella scatoletta che ho appena estratto, non c'era attorno la scatola di Amazon, arriva assolutamente così, con questa busta mille bolle, alcuni deplian pubblicitari di garanzie, insomma robetta che a poco serve e fondamentalmente questo è quello che vediamo. Ok? Qui abbiamo la bellezza numerica di 24 lame consumabili, chiamateli come volete, che si possono in teoria prestare per diversi usi. Ora, io tra i tanti errori che ho fatto, ammetto per inesperienza, scusatemi ma nessuno nasce imparato come si dice, non ho notato nemmeno il fatto che in base all'utensile multifunzione ci sono diverse tipologie di attacco, di connettori per quanto riguarda il mordente dell'utensile con quello che poi è l'aggancio relativo delle lame. Ora, questi due non sono compatibili, ce ne sono alcuni che vengono dati come compatibili per varie marche che puntualmente nelle inserzioni vengono anche enunciati, in questo caso io mi sono precluso ogni possibilità di utilizzo, come dire, mi sono curato un mal di denti con una revolverata. In ogni caso, andiamo a vedere comunque quello che c'è qua perché anche separatamente a quello che è l'utensile possiamo dare un giudizio di questi consumabili. Andando a prendere proprio il primo che mi è capitato poc'anzi, questo qua che è uno scollatore, serve in abbinamento all'utensile multifunzione solitamente per andare a staccare, a rimuovere quelle che sono le moquette, strati riportati e incollati adesivi su pavimenti o piani diversi, beh, io quello che noto in questo caso è che il tagliente, vedete, lo spingo sul mio dito, non ha un minimo di taglio. Ora, ovviamente possiamo metterci là e molarlo un pochino in modo che sia confacente alle nostre necessità. Però, voglio dire, è tutto nuovo, un minimo di filo tagliente gliel'avrebbero potuto fare, questo sia per questa lama sia per quest'altra. Vedete, si vede il mio dito che va su e giù, ma alla fine voglio dire nulla di che. Ora, avere un tagliente non è fondamentale sempre, però ripeto, dovendoci trovare ad agire e lavorare in diverse situazioni portandoci una valigetta di questo tipo, dovrebbe già essere in qualche modo pronta per l'uso e non dovremmo magari scoprire l'handicap in corso d'opera. Ora, questo qua lo andiamo a mettere da parte e andiamo a scoprire altre caratteristiche di questa confezione. Altre caratteristiche, prendiamo ad esempio questa lama qui abbiamo un qualcosa che non dovrebbe esserci. Se ci fate caso, metto il dito di sotto in modo che per contrasto si possa vedere meglio, i denti sono orientati praticamente in direzione destra o sinistra che dir si voglia. Comunque, sono orientati in una direzione. L'utensile multifunzione fa un lavoro oscillatorio di questo tipo. A differenza di quello che normalmente è il taglio con un seghetto anche manuale, nel quale magari andiamo a rimuovere il materiale segandolo, tirandolo a noi, beh, il seghetto, l'utensile multifunzione nel suo movimento oscillatorio non ci consente di fare una distinzione tra quando va a destra o quando va a sinistra. proprio perché le oscillazioni sono così veloci che non riusciamo nemmeno a percepire correttamente questo movimento. In questo, avere dei denti curvi in maniera discriminatoria per quello che è il senso di taglio fa in modo che, anche essendo così lunghi, si vadano a rovinare prontamente e a rendere questa lama assolutamente inefficace e inutilizzabile in un tempo, oserei dire, ridicolo. Quest'altra lama ha il difetto che proprio non è minimamente tagliente o aggressiva che dir si voglia. potremmo dire, ma no, è una lama delicata per fare dei tagli, delle rimozioni delicate. Quest'altra qui che vedete, una lama spatola parecchio larga, saremo attorno forse agli 8-10 cm. Stesso discorso. Ora, io non penso che il riporto di vernice vada a ricoprire quelli che sono i taglienti e quindi nel momento in cui lo userò andrà a funzionare correttamente. Purtroppo devo dire che questa valigetta contiene dei consumabili che, per forma, probabilmente possono anche definirsi idonei, compatibili a quelle che sono le marche che vanno con questo aggancio. Però, vedendo la cura con la quale sono stati realizzati le parti taglienti, beh, secondo me lascia parecchio a desiderare. Poi, sì, ci sono le scalette graduate lateralmente, ma i taglienti mancano completamente. Vado un pochino a controllarli tutti, stesso discorso qui, anche se magari, ecco, qui abbiamo a che fare con dei dentini molto più piccoli e magari andremo a utilizzare questo tagliente per lavori più delicati. Qua ci sta, però quelli che erano questi tre, ad esempio, lasciano molto molto a desiderare. Anche qui abbiamo dei denti, dei taglienti ridicoli, per niente aggressivi. Questo è un altro coltello, un'altra lama stretta, saremmo nell'ordine del centimetro, centimetro e mezzo. Eppure qui, quelle che sono le rifiniture, lo andrebbero a consumare immediatamente. Comprare un set di questo tipo ha senso? Beh, io, dovendomi fare ora quanto prima un assortimento decente, anche che mi consenta di poter affrontare un pochino tutte le situazioni, in prima battuta avrei detto sì. Però poi quando ti trovi delle deficienze, delle qualità costruttive comunque basse, non all'altezza di quelle che potrebbero essere anche le situazioni, volendo più semplici, perché uno non è che deve pensare di affrontare un super taglio complicato, durissimo, eccetera. Però, insomma, secondo me, di tutto quello che c'è qua delle 24 lame, ecco, forse questa è la prima di quelle che finora abbiamo visto, si presenta quantomeno in maniera decente, già solo per la simmetria di quelli che sono i dentini. Qua non c'è nessun orientamento destra-sinistra, quello che è l'aggressività dei dentini. Non è assolutamente notevole, cioè, mi aspettavo qualcosina di meglio, però su materiali leggeri, diciamo, che potrebbe funzionare. Dall'altra parte abbiamo anche una notevole lunghezza di questa lama, ma quindi, volendo, anche quando andiamo a consumarne una parte, possiamo andare poi a girarla poco a poco, cercando comunque di portare a termine il nostro lavoro. Stesso discorso per questa. Sì, anche questa non è cattivissima, ma non è nemmeno, insomma, la fine del mondo. Per quanto riguarda, invece, le diamantate, beh, qui la cosa si fa un pochino difficile. Perché le colorazioni come standard, come indicazione del fatto che sono diamantate, beh, ci sono, dai, la doratura c'è. Però poi bisogna vedere effettivamente questi riporti, cosiddetti diamantati, che Tenasha hanno sul supporto sul quale sono appoggiati. Quindi, magari, andando a lavorare tra due piastrelle per rimuovere quello che è la fuga, la parte che sta in mezzo a due piastrelle, questo si va a sollevare, si va a staccare subito, voglio dire, insomma, è un vero peccato. Infine, abbiamo quest'altro platorello triangolare abrasivo. Stesso discorso apparentemente diamantato, ma, se ci fate caso, vedete, qua ci sono dei sassolini molto più in rilievo rispetto ad altri. Ovviamente questo è utile per fare delle abrasioni grossolane, e poi, per lavoro un attimino più di fino, uno ci va con la carta abrasiva. Però anche qui, vedete, il fatto che ci sia questo sassolino, come lo chiamo io, così in rilievo, rispetto poi a tutto quello che si trova, è comunque indice di poca cura realizzativa. Oh, si dice realizzativa? Passatemi il termine, abbiate pietà. Qui poi abbiamo il platorello abrasivo, anzi, la base per la parte abrasiva in carta, carta telata, abbiamo diverse grane, esattamente, qua c'è la grana più grossa, quindi una parte da una 80, e poi qui abbiamo, cos'è, una 40? Non dovrebbe essere al contrario, quindi il numero più basso è quello più aggressivo, e quello più alto dovrebbe essere quello meno aggressivo. No, forse questa è una 140, una 240. Io qua vedo semplicemente un 40, vedete, andiamo a cercare di capire. Allora, poco di pazienza, ragazzi. Ok, questa è una 180, quindi, sì, dai, qua non si legge il 240, quindi qui andiamo da una 80 a una 240. Beh, la carta abrasiva. C'è qualche utente che spesso commenta i miei video, facciamo anche il nome, Massimo, che mi raccontava in un commento che si era trovato della carta abrasiva che si sfaldava tra le mani. Ovviamente non tutti gli abrasivi sono gli stessi, in questo caso questa tipologia andrebbe comunque testata, valutata, ma guardando il complesso, voglio dire, temo che non ci arriveremo mai. In primis, ripeto, perché ho sbagliato il tipo di aggancio, quindi laddove dovete fare degli acquisti consumabili considerate bene la tipologia di aggancio delle lame e del vostro utensile multifunzione, in secundis, perché secondo me proprio con la qualità delle parti taglienti proprio non ci siamo, ma nemmeno da lontano. In ogni caso io qui avevo una lama della Parkside, questa mi è rimasta per errore da un altro utensile e questa vi devo dire che pur essendo Parkside marca che spesso e poco volentieri maltratto in particolar modo, devo dire che questa è mille volte meglio, curiosamente è di gran lunga superiore a quella che troviamo qua e parliamo di Parkside contro la ligettina WorkPro o insomma con qualsiasi nome poi esca in commercio che dovrebbe comunque offrire l'opportunità all'utente di iniziare a lavorare in maniera proficua. D'accordo? Carissimi, questo è tutto, io spero a breve di potervi presentare comunque delle lame dei consumabili validi e magari in concomitanza con questo farvi anche una prova piacevole di questo nuovo utensile DeWalt che veramente è una favola perché è leggero, è modulabile, maleggiabile eccetera però ovviamente se non abbiamo la possibilità di utilizzarlo in abbinata con dei materiali di consumo decenti poco farà vedere il suo valore. D'accordo? Con questo è tutto, io come sempre vi saluto vi invito a iscrivervi al canale e a buttarci un like e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!